Che vuoi? Grande fratello VIP, Luca umiliato ancora da Soleil, lattacco shock VinZuiden Gossip Grande fratello VIP, le ultime news su Luca e Soleil, ecco cosè successo. Luca Onestini umiliato ancora una volta da Soleil Sorgee, video, dopo il cancelletto Grande fratello VIP. Non contenta della figuraccia che gli ha fatto fare in diretta tv su Canale 5 davanti a milioni di spettatori, Soleil è tornata a parlare del rapporto con il suo ex fidanzato che ha conosciuto a uomini e donne e ovviamente non ha usato parole positive nei suoi confronti. Soleil Sorgee spara ancora a zero contro Luca dopo il GF VIP. Come ben saprete Soleil dopo aver lasciato Luca senza mai avere con lui un confronto in diretta e quindi senza guardarlo negli occhi, ha intrapreso una nuova storia d'amore con Marco Cartasegna, l'altro tronista di uomini e donne che era sul trono con Luca, il quale aveva provato a conquistare il cuore della ragazza senza però riuscirci. . Sta di fatto che la love story nata da un giorno all'altro tra Marco e Soleil, con tanto di fughe d'amore insieme, ha lasciato tutti molto perplessi, compresa Hilary Blasi che a Verissimo ha ammesso che secondo lei questa cosa potrebbe essere stata in parte combinata dalla ragazza. . Polemiche a parte su Soleil, in questi giorni dopo la finalissima del GF VIP, l'ex fidanzata di Cancelletto Luca Onestini è tornata a criticarlo sui social postando un messaggio in cui dice che alla fine viene invitato nelle varie trasmissioni di Canale 5 solo per parlare della fine della loro storia d'amore e non per altro. . Un messaggio clamoroso che ovviamente ha scatenato l'ira dei fan di Luca, i quali in queste ore sono accorsi sul profilo Instagram di Soleil per ricordarle che da tutta questa situazione, colei che ne è uscita nel peggiore dei modi è proprio lei. . Luca Onestini innamorato di Ivana Marazzova? Ecco le ultimissime! Luca Onestini, intanto, va avanti per la sua strada e sembra essere del tutto incurante delle critiche e delle allusioni fatte da Soleil Sorghe. . Il secondo classificato del grande fratello VIP, video, nelle interviste rilasciate in questi giorni a mattino 5 e Verissimo ha soltanto detto che di Soleil non ne vuole più parlare e che non sente più il bisogno di avere un chiarimento con lei, perché la considera un capitolo chiuso della sua vita. . E così Luca guarda al futuro e a quanto pare potrebbe essere interessato alla bella Ivana Marazzova, la protagonista di questo GF VIP che secondo i bene informati avrebbe fatto breccia nel cuore dell'ex tronista di Uomini e Donne. . Tra i due sboccerà l'amore fuori dalla casa di Cinecittà? Lo scopriremo nelle prossime settimane. .